La Farnesina Con altre interlocuzioni commesse in campo in questi giorni, così come mi ero impegnato, Napoli è da protagonista in questo momento in tutte le sue componenti per la ricerca della verità e per fare giustizia su questa morte assurda di questo ragazzo napoletano impegnato fortemente per i suoi ideali in Colombia.